Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti tutti al nostro webinar. Mi sentite? Ditemi che mi sentite, ditemi che mi sentite, ho appena tolto. Mi sentite e mi vedete più che altro. Ciao Matteo, Giuseppe, Stefano, Pasquale. Uh, quanti siete ragazzi oggi? Oggi venerdì, solito venerdì di webinar, tre e mezza. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Che roba. Allora, allora, possiamo partire, tanto vi ho fatto prendere un caffè bello lungo oggi, perché siamo partiti con qualche minuto di ritardo, quindi un caffè un po' lunghetto. Allora, partiamo, partiamo subito, oggi pomeriggio con Nick, che adesso tra poco lo vediamo, che si unisce a noi. Allora, per chi non ci conosce, perché chiaramente qua ci sono tanti partner che vedo qua nel webinar, ma ci potrebbero essere anche qualcuno che non conosce ancora Metisys, Open Company, il principale produttore italiano di soluzioni open source per il business, 100% italiano, siamo, allora dovrebbe arrivare la slide, eccoli qua, ormai siamo 38-39 persone, 500, oltre 500 partner in Italia, 540 partner in Italia, 30.000 installazioni sparse sul territorio, sul territorio italiano, suite, suite composte da affari o aziendali, centro di Novoip, collaboration suite, hotspot, quindi soddisfiamo tutte le esigenze di collaborazione, comunicazione e sicurezza, tutto pensato per piccola e media impresa, e oggi parliamo specificatamente, specificatamente, non mi viene questa parola, di sicurezza, di sicurezza lo facciamo col nostro Nicola, però io vi dico un'altra cosa, due note tecniche prima di partire, che durante questo webinar vedrete delle piccole anticipazioni, piccole anteprima del corso in sede da noi, in Metisys, sulla cyber security che terrà Nicola l'8 marzo, il prossimo 8 marzo, quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, venite giù a trovarci a Pesaro, giù su, dipende da voi dove siete, perché è un nuovo corso che partirà per la prima volta, appunto l'8 marzo con Nicola, e passate una giornata insieme a noi. Altra cosa, altro dettaglio tecnico, canale Telegram, quindi se volete vedere anche la registrazione di questo webinar, o seguire tutti gli aggiornamenti, tutte le anteprime, tutte le nuove eventi che facciamo qua in Metisys, iscrivetevi, cercate Metisys su Telegram, iscrivetevi al canale, così meno rimanete sempre aggiornati, anche con questo strumento. Detto questo, io direi che oggi con Nicola abbiamo pensato a un webinar che si ricollegava un po' a una serie di webinar che abbiamo fatto, ricordate lo scorso anno, sulla VA, sui report, sulla sicurezza, ne abbiamo fatti alcuni, e abbiamo dato anche le news che sono arrivate ultimamente di sistemi non patchati, di sistemi che vengono buccati, di reti che vanno giù, eccetera, abbiamo cercato un po' di invertire il concetto della protezione, non partendo dalla progettazione della rete usuale, ma proteggere la rete partendo dal provare a bucarla, e quindi da lì provare a vedere quali sono le vulnerabilità che ci sono all'interno della propria rete, e da lì progettare la propria strategia di sicurezza. Parleremo di ethical hacking, parleremo appunto anche di SAP Security insieme a Nicola. Vediamo se Nic ce l'abbiamo. Ho rotto tutto. Alcuni dicono che ti hanno bucato, Nic, quindi non so. Mi sono bucato, no no, mi sono bucato da solo, aspetta un attimo. L'agio ti sento, se si lascia attivare anche il video. Sì, eccolo. C'era un contatto che non contattava. C'era un contatto che non contattava. Aspetta, ti aggiungo, video in evidenza. Eccolo là, dovrebbero vederti un po' tutti. Perfetto, eccolo lì. Allora, io ti ho già presentato ampiamente il tuo webinar, adesso tolgo le slide, tolgo le condivisioni, così te la lascio a te, se vuoi, attaccare le tue, quando vuoi. Sì. Allora. Allora. Chi non conosce Nicola, se c'è qualcuno che ancora non conosce Nicola, responsabile del nostro security team, si occupa di tutto quello che riguarda la sicurezza in netesis e non solo, quindi fatevi tutte le domande che volete. Oggi, come vi dicevo, dato che ultimamente va abbastanza questi... diciamo, siamo all'ordine del giorno, Nic, quindi a parlare di questi argomenti ultimamente, quindi siamo proprio sulla cresta dell'onda. Vai pure, io ti lascio il microfono. Eccolo qua. Non so cosa hai detto, ma... Non importa, ho detto solo cose belle sui te. Tranquillo, tranquillo. Una delle prime cose è stata l'evoluzione del titolo, che era partito come da Proteggere la tua rete provando a bucarla, a Ethical Hacking for Fun and Profit, perché mi sono reso conto che spesso e volentieri, pur parlando di temi legati all'hacking, non ho chiarito il concetto di Ethical Hacking. Nel senso che... Vado... Perché non switch? Oggi è giornata pesante. Avanti, avanti, partiamo qua. Ok. Cos'è l'hacking? L'hacking è l'abilità di utilizzare quello che un sistema ci offre, ma in un modo diverso da come è stato pensato. Cioè, gli amanuensi che facevano libri o che copiavano libri non avrebbero mai pensato che noi nel ventunesimo secolo saremmo arrivati a utilizzare un libro per tenere in piedi un tablet o qualcos'altro. Visto che nel posto dove era chi stava guardando, probabilmente uno streaming di qualche tipo, non aveva un leggio, si è hackato il libro in maniera reversibile per potergli fare delle cose, far fare quello che gli serviva sul momento. Quindi questo, secondo me, esprime il concetto di hacking. Uso un sistema diversamente da come è stato pensato. Hacker buoni o meno? Nel senso che siamo abituati a pensare che hacker vuole dire cattivo, criminale, ladro. In realtà no. Hacker è semplicemente colui che hacka, ora noi siamo italiani, abbiamo una passione per la pizza che non ci porterebbe mai a utilizzare uno strumento improprio per mangiarla, ma è un hack che a noi fa rabbrividire la pelle, ci fa venire il brivido giù per la schiena, ma il concetto è esattamente questo. Qualcuno potrebbe arrivare a fare qualcosa di questo tipo per avere un profitto. Quindi hacking non è necessariamente profitto. Hacking è utilizzare qualcosa in maniera diversa. Siccome non tutto è come sembra, anche il Regolamento Generale di Protezione dei Dati richiama all'articolo 32 la necessità di adottare delle misure tecniche per garantire il livello di sicurezza adeguato e quindi l'hack inteso come andare a provare la configurazione, il sistema, la protezione del dato è uno degli elementi necessari, opportuni, funzionali. Torniamo a pensare al concetto di sicurezza informatica. Che cos'è? La sicurezza informatica è qualcosa che garantisce un livello di protezione sui dati, riguardando la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità che sono i tre elementi principali. Cioè io devo essere, devo avere il dato disponibile quando mi serve con un ragionevole livello di sicurezza e facendo in modo che sia integro. Dove integro può essere sia relativo a lo devo trovare non modificato da qualcuno ma anche la garanzia del fatto che nessuno lo possa modificare e quindi ne discendono altri due. punti che sono l'autenticità, cioè quel dato deve essere vero e quindi garantito da una catena di integrità e non deve essere ripudiabile. Cioè io non posso dire che non ho fatto quella determinata cosa. Gli ultimi due punti in particolare ci richiamano gli aspetti anche legati alle transazioni economiche perché vengono richiamati da PCI DSS che sono le misure legate alle transazioni bancarie per fare in modo che se un bonifico viene fatto dal mio conto ci sia la certezza che l'ho fatto io e che non l'abbia fatto qualcun altro, ad esempio. Sono andato a cercare qualcosa di molto lontano nel tempo. questo è un libro che ho e la vignetta, non lo so se si legge, ma dice accidenti, dovevamo conquistare il castello prima che diventasse di moda andarci a visitare. Questi signori, al di là di fare una battuta nella copertina del libro, in realtà sottolineavano tutta una serie di passaggi molto attuali, se vogliamo. La sicurezza di internet è qualcosa di importante ai giorni nostri. In internet hai vicini terribili, la sicurezza assoluta non esiste, la sicurezza è una questione di economia, rendi omogeneo il livello delle tue difese, un attaccante non affronterà le difese ma le aggirerà. Il loro obiettivo è sfruttare l'anello più debole. Il quiz è quando è stato scritto questo libro? Compie 20 anni, perché era il 2003. La seconda edizione era del 2003. Sono passati 20 anni, ma abbiamo, come dire, ne abbiamo fatto poco tesoro di questi suggerimenti. Cos'è quindi l'ethical hacking? E come si ricollega ai principi di sicurezza? Usare delle tecniche di attacco per verificare lo stato di sicurezza reale della rete e trovare gli anelli deboli è esattamente ethical hacking. In ordine non esaustivo e non, come dire, pretenzioso di comprendere tutto, c'è il social engineering, c'è il testing, la verifica delle applicazioni, della rete, degli elementi fisici, ci sono le intercettazioni e il phishing, cioè far cascare qualcuno nella convinzione di starci dando delle credenziali giuste per accedere a dei dati, mentre invece accederemo noi, o mix, cioè insiemi e variazioni di tutto quello che c'è sopra. La sicurezza informatica offensiva quindi utilizza delle metodologie di attacco, degli hack, per identificare, sfruttare le vulnerabilità, gioca a tutto campo per violare le difese aziendali, non mi interessa buttare giù il firewall, magari ho la wifi aperta, non mi interessa attaccare il server, magari ho le credenziali, non mi interessa puntare la pistola alla tempia di qualcuno perché magari se gli faccio comparire un pop-up mi dà le credenziali senza problemi, anzi con la convinzione di non doverle cambiare, quindi mi durano anche di più. Qual è quindi la tecnica e il modo per identificare l'anello più debole? Raccogliere le informazioni, definire i bersagli, provare ad ottenerne controllo, consolidarlo e cancellare le proprie tracce con una serie di meccanismi empirici che partono dal più lontano e poi a mano a mano si avvicinano al centro. Quando riusciamo ad avere root di dominio, anzi admin di dominio o root del sistema di autenticazione Kerber, lo so, quello che vogliamo, abbiamo vinto il jackpot. Ora, tutto questo doveva garantirci l'esempio che dovrei andare a fare e quindi vediamo un attimo se ve lo posso raccontare oppure se ve lo posso far vedere. Vediamo adesso, facciamo connetti? Attenzione, attenzione, attenzione. Qui parte la ola, eh? Allora. Qui parte la ola. Giuseppe dice una cosa certa, il webinar non è noioso. Per me non di sicuro anche perché funzionava tutto e dalle due ho cominciato a correre dietro, a ricostruire la rete, eccetera. Allora, state vedendo una macchina Windows 11 presa in configurazione di default quindi come mamma la fa, l'ho messa in rete, gli ho, ok, è partita, qui abbiamo una macchina Kali con un sì, va bene. Quello che voglio provare, aspettami a vedere, aspettate, allora, la macchina, sì, ha, la macchina Kali, che è quella che vediamo qui nell'SSH, ha due interfacce di rete, TH0 e TH1, TH1 è sulla rete 192, 168, 58, 5, la macchina che sta qui dietro è sulla rete, è sulla stessa rete, 192, 168, 58, 4. Allora, lancio un tool che si chiama Responder, sostanzialmente, è un bel oggettino, e lui cosa fa? Se la fortuna mi assiste, perché a questo punto sì, ok, fa quello che facevano una volta i tool con il DNS, cioè si mette e inquina facendo in modo che la macchina vada dove voglio io, ha tirato su una serie di protocolli per Windows, adesso siccome mi piace sfidare la fortuna, io mi scollego con l'utente e ritorno qua, allora, dicevo, lui sta in ascolto sulla rete per tutta una serie di protocolli Microsoft, ah, giustamente quando mi scollego da una sessione RDP mi butta fuori, allora io qui sul terminal sto emulando un utente legittimo che utilizza la macchina, di qua sto emulando un attaccante che vuole attaccare la macchina, Responder si è messo in ascolto e simula tutta una serie di protocolli in modo che se la macchina, ok, se la macchina Windows chiede qualche informazione alla rete, lui ne prende il posto e gli dà una risposta, in questo caso, può servere Windows di turno praticamente, giusto? Come se fosse un servo Windows. In realtà lo fa in maniera un po' più smart, comunque il concetto è lo stesso, cioè se c'è una richiesta per il DHCP in cui il DHCP non risponde, lui aggiunge un parametro per essere interpellato, ad esempio mette il WPAD che è l'autoconfigurazione del proxy, ok? Adesso, ok, sostanzialmente, lì ha cominciato a martellarlo in maniera molto violenta, ma sostanzialmente il posto ci è passato, quindi lo devo rifare, in questo caso quello che lui aveva fatto era stato catturare un utente. Adesso vi faccio vedere, cioè quando un utente al computer scrivesse qua no, questo è il mio, scusate, quando un utente a questo computer qui si mettesse a cercare barra barra pippo, ok? Però mi sono sbagliato, io non voglio fare niente, quello che è successo dietro è che no, non ancora, no, l'aveva fatto prima, glielo facciamo rifare con il login, aspetta che se spengo il mio, un disastro, ok, quindi qui abbiamo lui che sta in ascolto, noi ci ricolleghiamo, mancava anche il bello della diretta oggi, però ho voluto sfidare la sorta. Fai il login e il logout perché lui al login che cosa fa? Perché lui al login va a cercare una serie di risorse di rete associate al mio utente, ok? E nello specifico quando lui quando lui fa una determinata operazione cerca anche di autenticarsi e quindi gli passa l'utente o meglio, gli passa un hash passato, solo che io odio aggiungiamo un po' di scrollback adesso lo forzo io anche se qualcuno l'avrà visto quando io vado a cercare questa risorsa che non c'è sulla rete anche se ok, di fatto l'aveva già fatto passare lui ha mandato un hash che era quello che avevo selezionato prima ok? Adesso faccio un control c allora quello che si può fare è allora io qui ho tre comandi che sono il primo va a prendere dal log della macchina l'hash il secondo va a passare l'hash a un elenco di password per vedere se riesce a trovarlo e il terzo ci fa l'output dell'eventuale password che viene trovata giusto questo anche per dirvi quanto tempo ah io sto girando su una macchina virtuale quindi chiaramente hashcat che vorrebbe avere delle risorse serie si arrabbia ma in dieci secondi undici ha trovato che la password complessissima era password in realtà poi su questo facciamo una riflessione perché a questo punto noi che cosa possiamo fare quindi dietro vi faccio vedere una cosa a parte il fatto che sì qui adesso è comparso un pop up di autenticazione ma perché ho forzato la richiesta se no normalmente l'utente non è consapevole di niente vi faccio vedere che ci sono degli utenti presenti sulla macchina fra cui administrator ma administrator è disabilitato allora vado a collegarmi sul server con le credenziali che ho ottenuto e io sono l'utente sono l'utente Windows 11 e e c'è l'ho di sopra non ce l'ho l'history di fatto quest'utente è un utente amministratore della macchina locale cosa che tipicamente prima facciamo un altro giro scusate mi manca la traccia che volevo fare mi scollego ci ritorno dopo qui lancio un altro comando che utilizza le credenziali dell'utente che abbiamo trovato per andare a tirare giù sono divertito un po' cosa dovrebbe fare questo comando? allora in realtà non è esattamente questa la sintassi ma io la posso ok crackmap exec è un software interessante che utilizzando un utente amministratore della macchina va a fare la lettura delle credenziali che sono in memoria o che sono salvate con o anche di dominio e quindi fa quello che avrebbe fatto una volta eccolo qua qui dietro abbiamo visto quali sono gli utenti ok abbiamo visto che c'è l'utente administrator default account guest user eccetera e qui questi sono queste sono le loro credenziali nel senso che qui abbiamo l'utente administrator che ha l'ID500 sul sistema e questo è il suo hash ntlm con queste credenziali è possibile collegarsi alla macchina ma noi abbiamo il problema che quell'utente ha le credenziali disabilitate cioè qui è disabilitato allora io ho bisogno di un'altra cosa chissà se ce l'ho qua fino a qui scusate il primo già che ci siamo lo allargiamo un pochino lo rifacciamo allora col SAM andiamo a prendere gli utenti locali con l'LSA andiamo a prendere le credenziali di dominio tenete in considerazione che se ci fosse se la macchina fosse stata dominio se un amministratore di dominio si fosse collegato noi avremmo avuto i loro hash e con quegli hash ci potremmo autenticare quindi di fatto abbiamo preso il controllo della macchina e del dominio c'era un'altra cosa che volevo fare ma ce l'ho qui dovrei tornare di sopra a prendere una cosa ma mi sembra fuori luogo perché avevo fatto questo vediamo se no spiegaci i passaggi in cui sei arrivato fino adesso quindi hai tirato giù la password giusto poi hai tirato giù gli utenti sì ho tirato giù gli hash degli utenti con gli hash degli utenti è possibile vediamo se mi basta così se noi andiamo a vedere l'utente amministratore è ancora disabilitato perché non abbiamo le credenziali di ho bisogno bisogna andare a prendere un'altra cosa di sopra allora fin qui cosa ho fatto torniamo di qua che intanto vi spiego il giro e dopo tu glielo puoi riportare un attimo allora quindi allora allora sostanzialmente abbiamo utilizzato responder per catturare l'hash con quest'hash abbiamo calcolato ne abbiamo ricostruito la password e quindi con hashcat siamo riusciti a prendere la password teniamo in considerazione che noi qui l'abbiamo preso da un password list e quindi tra virgolette la password era facile tenendo in considerazione che l'altro giorno mi è saltata fuori la password di un collega ma questi sono dettagli assolutamente trascurabili e quindi sono comuni sì ma se gli utenti utilizzano le password comuni c'è un problema dovevate vedere la faccia quando gli ho detto scusa ma la tua password è questa? sì ok detto questo quindi con hashcat abbiamo ricostruito la password l'altra considerazione è quella che con la parte che non vi sto facendo vedere abbiamo riattivato l'utente amministratore e con l'hash dell'utente amministratore è possibile collegarsi sul sistema se mi date un altro minuto me lo date un altro minuto faccio vedere tutto il giro e poi dopo intanto tu guarda se ci sono domande e sintetizzali sì comunque sto rispondendo a Giorgio Bland è sulla stessa sulla stessa LAN lui sta ipotizzando che la macchina senza amante la macchina su cui è che di Linux è sulla stessa sulla stessa LAN quindi i servizi li sta facendo partire li sta facendo partire direttamente direttamente lì sopra il comando che diceva prima Oliver si chiama Responder quindi l'ha fatto vedere l'ha fatto vedere poco fa quindi in questo momento sta cercando di emulare il comportamento che potrebbe fare un attaccante che si trova all'interno della tua rete e sta cercando di emulare degli servizi che la macchina Windows sta provando a utilizzare banalmente possono essere la condivisione il collegamento a una cartella condivisa se non il login di un dominio e cose di questo genere qui quindi questo è l'obiettivo che sta cercando di ottenere Nick mettendosi nel mezzo facendo passando in mezzo quindi riesce a prendere tutti i dati che stanno passando e gli sta cercando di appunto come ha fatto anche con la con la password prenderli ed eventualmente riutilizzarli per altri per altri fini quindi questo è quello che sta cercando di ottenere qualcuno mi dice che ha una connessione non stabile io vedo tutto perfettamente quindi se avete qualche connessione stabile collegatevi 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 ora ok Luciano ok va bene adesso io seguo un pochino le domande che stanno arrivando fino adesso se non avete capito qualcosa fino a questo momento altrimenti scrivetelo qui a destra così a Nick lo può indicare Nick ti dico soltanto una una cosa Luciano chiede se non usassimo un file di password che alternative ci sono tu hai che cosa hai usato per ridici un attimo che cosa hai usato per individuare la password di prima ho usato dopo ve lo faccio rivedere tutto ho usato comunque una word list la word list è un insieme di password che vengono provati in maniera sequenziale allora scusatemi siamo qua sì allora io mi sono collegato come utente come utente user ok quindi io sono user sono un amministratore ma di fatto se esegui comandi non posso allora che cosa faccio qui le cose si complicano chiamo in in powershell di fatto scarico due file sono andato su internet a prendere due file che mi sono che mi servono e li ho caricati a sistema a questo punto prendo e rilancio lo stesso comando che avevo lanciato prima ma come amministratore con privilegi di sistema ok quindi se noi adesso andiamo a vedere administrator administrator adesso non è più disabilitato ok quindi io vado torno qua mi scollego mi ricollego con l'hash che abbiamo preso prima dal dump del sistema e io sono amministratore della macchina ok le cose interessanti è che qui non è successo niente io ho il firewall attivo o ho una macchina windows 11 aggiornata o defender attivo ok quindi in teoria ho fatto una serie di cose lecite per il sistema ma che messe in fila diventano un problema ok quindi questo è questo è quanto questo di fatto è la base di molti capture the flag che sono i giochi con i quali noi tra virgolette interessati agli aspetti di security ci divertiamo allora rispieghiamo tutto il giro riprendiamo la presentazione perché scusatemi per le pause che abbiamo fatto è venuto fuori un po' un mess quindi sulla macchina dalla macchina attacker la macchina attacker è una Kali Linux 2204 con niente di speciale pacchetti installati di default la macchina 11 è una macchina Windows 11 enterprise in versione valutazione non voglio assolutamente sottolineare che ci siano problemi di configurazione su un sistema o sull'altro voglio solo sottolineare il fatto che alcuni sistemi nelle configurazioni di default o nelle configurazioni verso le quali noi andiamo a portare gli utenti di fatto diventano un problema da un punto di vista security perché se togliamo l'amministratore all'utente non può installare software non può fare cose non gli funziona niente però la cosa interessante è che spesso anche con l'amministratore compaiono gli UAC mentre chi sa come far muovere le cose sotto non ha nessun tipo di vincolo quindi Windows 11 e Kali Responder il pacchetto il demone che si mette in ascolto e cerca di fare la cattura degli hash di Windows questi hash sono diversi da quelli che abbiamo visto dopo perché questi servono per fare una challenge cioè una sfida per ricostruire le password e le autenticazioni gli altri invece sono validi come sistemi di autenticazione cioè io con questo token qui non mi sarei potuto autenticare con quello che prendiamo dopo sì in questo caso io ho utilizzato hashcat su una word list la word list è un elenco di password nello specifico vediamo se riesco a farvelo vedere torniamo qua qui mi scollego qua vado a cercare ROCQ ROCQ è di fatto uno degli standard che si usano per fare capture the flag c'è un insieme di password adesso il numero lo dico ogni tanto viene aggiornato ovviamente ci sono dentro 14 milioni di password tendenzialmente e sono messe così lunghe corte varie vediamo se ce ne sono su inter milan giusto per darvi perché so che cristian ad esempio è sensibile verso questo tema ce ne sono 1344 variazioni legate a inter e questo ROCQ di fatto è planetario non è specifico per l'italia però è interessante perché c'era la password c'è anche password c'è password con tutta una serie di variazioni vediamo se c'è 1234 come citazione ah sì quelle che finiscono con 1234 c'è 1234 per le balle spaziali ok quindi io cosa ho fatto sono andato a sono andato a utilizzare hashcat per cercare la password lì dentro dopodiché quando avevamo l'hash di amministratore questo 884 è lo stesso che abbiamo utilizzato per autenticarci quindi per i più scettici 8846 8846 F7E e finisce con 7C quindi con questo dato che noi abbiamo ricavato prima ancora di poterci collegare alla macchina ora la considerazione è che io non sapevo e tornando qua tornando all'hash torniamo indietro l'hash che forse non si vede qui sotto ci ha detto il nome della macchina il nome dell'utente e l'IP e una prima password io di fatto come attaccante avrei avuto servite su un piatto d'argento tutta una serie di informazioni e l'elemento successivo è che con CrackMapExec io sarei riuscito a prendere dal sistema tutte le password tutti gli utenti validi dal primo che ho avuto ok e tendenzialmente con questi hash che sono quelli dopo i due punti dalla seconda parte con questi hash ci si potrebbe autenticare con tutti i vari utenti ora noi potremmo riautenticarci con questo ma tanto ne sappiamo la password gli altri potrebbero essere disabilitati o comunque non ci interessano e e noi andiamo avanti come ci si difende da tutto questo la prima cosa potrebbe essere quella di capire che cosa sta girando sulle reti la secco perché di fatto come dicevo prima noi qui abbiamo simulato di avere una macchina malevola sulla rete locale perché è un virus adesso qui nel caso specifico c'era una Kali con il tool installato sopra ma parte di questi attacchi li fanno anche i virus o i ransom come li vogliamo chiamare la considerazione è che in qualche modo questo è arrivato sulla rete e nessuno si è accorto che c'era quindi wifi porte di rete portatili di servizio di qualcuno lasciati fuori piuttosto che IoT ancora non ci sono arrivati ma siccome responder di fatto è uno script in Python e fa tutto quanto con delle librerie praticamente standard potrebbe girare su qualunque cosa quindi l'altro modo di difendersi potrebbe essere quello di andare a verificare chi si collega da dove con quali credenziali quindi controller di dominio piuttosto che controller degli amministratori di sistema volendo richiamare anche il provvedimento del garante servono proprio a questo nel senso che se alle 3 di notte l'utente administrator si è collegato al sistema stava lavorando in maniera lacre oppure c'è qualche motivo per cui ci dobbiamo preoccupare quindi lo scenario la miglior difesa è da farsi in funzione dello scenario qualcuno potrebbe anche decidere di avere two factor authenticator piuttosto che altro ma in realtà la protezione degli hash non funziona cioè o meglio proteggersi dagli hash significa complicare molto la vita da un punto di vista della sicurezza per gli utenti perché poi dopo devono avere i dispositivi devono avere delle dinamiche di autenticazione a volte anche le impronte digitali potrebbero non bastare nel senso che se io riesco a catturare l'hash di un utente quel hash è quello che viene utilizzato per accedere al share ai processi su server o altri sistemi e quindi di fatto anche se io ho protetto il portatile perché faccio l'autenticazione solo con credenziali forti di fatto non posso avere l'impronta digitale che viaggia sul server o dalle altre parti con i vari servizi quindi comunque bisogna un po' cercare di capire come proteggersi al meglio con i diversi strumenti che abbiamo qualcuno sta ha delle pistassi nasale ci siamo tutti io ci sono quindi adesso ci sono anche gli altri anche perché stanno arrivando altre domande quindi continuate a scrivere le domande che poi che poi le vediamo se vuoi te ne faccio già qualcuna nel frattempo vai 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 allora dice Marco dice quindi questi tools devono essere presenti sulla macchina all'interno della rete oppure possono essere in ascolto anche da remoto quindi quella è la differenza tra una macchina all'interno allora la considerazione è che responder chiaramente può essere in ascolto da qualunque parte sulla macchina locale riesce a inquinare il record cioè io riesco a mandare il vpad piuttosto che un record dns cioè l'obiettivo qual è? è fare in modo che ci sia una connessione dal client verso la macchina malevola cioè rispetto a questa a questa scena a questa immagine qui qui cosa succede? succede che il client dice sono io il gateway sono io il gateway sono io il proxy sono io il proxy sono io il DHCP sono il DHCP sono io tutto una di queste il target la prende per buona gli fa una richiesta e lui gli dice ma dimostrami che sei veramente tu e gli dà le credenziali fregato ok questo è il concetto è chiaro che sulla rete locale è più facile perché tutto l'inquinamento cioè l'avvelenamento dei record si può fare ma se questo fosse da un punto di vista remoto cosa succederebbe se un link di una connessione puntasse a malicious.org quindi una macchina che sta fuori funzionerebbe sarebbe la stessa cosa quando lui tenta di collegarsi quello gli chiede l'autenticazione lui di default gli manda l'autenticazione dell'utente e quell'autenticazione è brutforzabile e quindi ritorniamo da capo a piede del pero quindi io con un tentativo di phishing riesco a prendere questa credenziale e poi magari la stessa credenziale è valida per la VPN per la posta per altre situazioni se abbiamo il single sign on c'è possibilità di andare a disabilitare questo comportamento sui client con delle policy e quindi ci possono essere una serie di misure bisogna poi capire che cosa comporta la disabilitazione rispetto ai protocolli presenti sulla rete quindi in locale diventa più facile perché posso dire sono io tutto e di in io vedo un messaggio di Alessandro che dice se tu avessi avuto un EDR attivo sull'endpoint se ne sarebbe accorto tecnicamente dipende com'è la allora la parte più critica sostanzialmente non è stato tanto quella della ricostruzione della password ma è stato quella della richiesta di crackmap exec al client questa qui questa qua che vediamo qui sotto no perché questa è un'azione maliziosa cioè c'è qualcuno con delle credenziali amministrative locali ma comunque amministrative che si tira giù tutto l'elenco degli utenti e i relativi hash quindi se l'EDR ha una firma per riconoscere questa 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 richiesta come maliziosa allora si l'avrebbe bloccato altrimenti no dipende da come l'endpoint lo rileva defender non ha fatto niente in realtà no in teoria il file è relativo e quindi in teoria i protocolli sono quelli che servono a Windows per funzionare credo che utilizzi SMB piuttosto che cose standard possiamo provare se l'utente non fosse stato amministratore della macchina tutto questo non sarebbe successo nel senso che ci si poteva collegare cioè era possibile fare anzi in realtà no per l'Evil WinRM per questo no per questo ok per questo io ho dovuto attivare il servizio WinRM perché mi serviva per dimostrare poi la possibilità di potersi collegare se no ci sono altri protocolli tipo PSXEC o altro quindi dipende che cosa il firewall avrebbe permesso le credenziali comunque l'obiettivo è farvi riflettere su due aspetti al di là del vederlo che è vero che non vi sto raccontando balle anche se scuso di nuovo per i viaggi che ho fatto tenete in considerazione per chi sa com'è fatta la sede io sono di sotto nella sala webinar e il mio ufficio è di sopra quindi ho corso su e giù per le scale con i colleghi che mi dicevano c'è tutto a posto no ma la risolviamo un webinar che ti ha fatto sudare diciamo da tutti i punti di resta sì 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 bravo se non fosse stato amministratore della macchina avrei potuto cercare altre strade perché comunque le credenziali restavano valide quindi potevo accedere alla posta potevo accedere ai vari servizi che con quelle credenziali potevo vedere con un dominio di active directory con tutte le policy di autenticazione degli utenti quindi administrator disabilitato rende tutto più sicuro in realtà dipende perché da me nella macchina windows 11 administrator era disabilitato peccato che l'utente era amministratore locale e con quell'utente si è potuto prendere se sono potuti prendere gli hash e andarci a guardare dentro le policy di active directory aprono un altro tema interessante che è c'è una parte delle policy che è leggibile da tutti gli utenti autenticati quindi da authenticated users dove spesso vengono messe le credenziali degli utenti amministratori che devono essere distribuiti cioè c'è una policy che distribuisce gli amministratori di dominio sui vari client e per forza di cose quella policy deve essere leggibile da tutti quella policy è cifrata peccato che la password di cifratura è invertibile e è pubblica quindi in realtà si apre un altro fianco perché c'è un altro modo per andare a recuperare altri utenti di sistema anzi altri amministratori di dominio nel caso specifico però la considerazione è cercare di capire che tipo di problema abbiamo e poi valutare qual è il tipo di risposta ok abbiamo io sono partito ho aperto la chat e stavo prendendo le ultime ne abbiamo sì allora c'è un'altra che dice ok è tutto comprensibile vorrei conoscere quale sono le backsprati che tu proponi per evitare di incociare questi sistemi cioè tu hai il sistema aggiornato lui dice il sistema aggiornato appena installato il default però riesce riesce a essere riuscito a diciamo a creare problemi anche questo quindi domanda provocatoria cosa suggerisci di fare per rendere la cosa un pochino più la risposta provocatoria è monitorare gli accessi degli amministratori dominio come tra l'altro richiederebbe il garante nel senso che nel momento in cui c'è un amministratore che si logga in un momento in un orario in cui non dovrebbe loggarsi allora ci accorgiamo i miei colleghi mi canzonano perché io non uso tendenzialmente l'utente amministratore locale o non uso non faccio operazioni quotidiane con gli utenti amministratori quindi mi complico la vita con tutta una serie di autenticazioni di meccanismi eccetera perché so che un click sbagliato l'avevano dimostrato in un'altra in un'altra situazione ma un errore che venga fatto da un amministratore si ripercuote su tutto il su tutta l'infrastruttura e quindi la best practice per me è trovare un modo per avere il log degli amministratori di sistema e controllarli cioè se il mio utente amministratore di sistema la notte scorsa si è collegato e io non lo so e non sono stato io per me rappresenta un problema poi se Alessio la notte scorsa ha lavorato perché allacremente c'aveva delle cose da gestire magari quando gli arriva il report dirà sì sì sono io che alle due non sapendo cosa fare mi sono messo a amministrare la rete spero che non lo faccia più uguale questa cosa il marchio dice ma se per l'utente è tutto trasparente come si fa a accorgersi dell'attacco è una bella domanda ma non è l'utente che si deve accorgere dell'attacco rispondo così nel senso che premesso che lo cito spesso i miei figli hanno imparato l'hanno imparato o quantomeno io spero che lo tengano presente a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità come diceva Ben Parker la considerazione è che l'utente amministratore e tendenzialmente il traffico che viene fatto sulla rete a chi gestisce quella rete o quell'infrastruttura dovrebbe essere noto e quindi la best practice è avere consapevolezza perderci del tempo mettersi qualcosa che tiri fuori i log e ce li notifichi prendere un software tipo cloud log manager o altro che se li log da qualche parte e poi periodicamente ci andiamo a guardare Mirko dice ma con respond puoi trovare anche altri hash di altri protocolli tipo posta ftp eccetera eccetera allora chiariamo il concetto è uno strumento fatto per attaccare Microsoft ok quindi se la posta è cifrata SSL perché la posta è in chiaro passano in chiaro e quindi spero che sia deprecato come l'FTP se lo utilizzate ancora senza l'S davanti passa in chiaro quindi quelli se ci sono le credenziali che girano in chiaro e su quelli che hanno meccanismi o cifratura ok la posta con TLS FTP con TLS ok di fatto TLS non è soggetto a questo tipo di problema perché non è invertibile non è brutforzabile quindi non c'è quel problema il problema c'è con l'hash di challenge di Windows che da cui si può ricostruire la password da cui si può fare l'attacco sia in termini di di reverse della password utilizzando brute force o sia utilizzare le word list però la considerazione è siccome spesso quando si vede questa tabella qua non ci viene mai da valutarla rispetto ai casi reali cioè questa che noi abbiamo fatto un evento qua con alcuni clienti due settimane fa tre settimane fa e una delle domande che ho fatto è stata quanti hanno la password più lunga di 14 caratteri e nessuno ha alzato la mano ok quindi la considerazione è se utilizziamo delle password lunghe dieci caratteri poi dipende dal calcolo ma nove caratteri e poi numeri lettere eccetera sappiamo che in due giorni è brute forzabile quindi la considerazione è non ci rendiamo conto non abbiamo consapevolezza di quali siano i punti in cui si espone la vulnerabilità della lunghezza della password per noi l'abbiamo messa cifrata e buonanotte al secchio così come il collega che l'altro giorno si è ritrovato con anzi oggi gli ho detto ma la tua password è questa sì non è che si è posto il problema di come facessi ah nota io non sono amministratore di niente qui dentro perché perché non mi fido di me stesso e quindi non voglio avere no scherzo mi fido di me stesso ma mi diverto di più a dimostrare certe cose per proprio per cercare di di condividere con con i colleghi quali miglioramenti possiamo andare a mettere in in atto ok ok allora vabbè Marco chiede sarebbe utopico integrare una serie di tools nei vostri sistemi che rendono evidenti e complessibili questi comportamenti allora scusami sono andato un po' troppo sotto sì sì ho visto allora senza word list si può fare brute force assolutamente sì sarebbe utopico integrare una serie di tools sui nostri sistemi bella domanda allora intanto intanto il sistema di centralizzazione dei log che è quello che consigliavi prima di poter controllare intanto quello ce l'abbiamo diciamo e poi torno allora un aspetto fondamentale che tocca tutti io in azienda sono l'incubo privacy qualcuno quando mi vede sa di avere delle rogne si preoccupa in realtà la considerazione è quella di cercare di fare il minimo indispensabile per fare in modo che non ci siano problemi questo è il concetto quindi non si vuole fare l'ottimo si vuole fare il buonino perché il buono è il nemico dell'ottimo anzi l'ottimo è il nemico del buono noi ci accontentiamo del buonino la considerazione sui tool in realtà penso che avrei grosse difficoltà a discutere con chi si occupa dello sviluppo perché parte delle considerazioni è legata al fatto che qui stiamo parlando di attacchi specifici dell'ambiente Microsoft nel quale probabilmente il firewall poco può fare spiego il client che si trovasse a fare una connessione in HTTPS su malicious.org farebbe una connessione che poi lui si stia confessando e dando tutte le password che può al malicious.org oppure che stia verificando l'ora o non so cos'altro il firewall non lo sa allora il firewall può lavorare su far raggiungere o meno malicious su una serie di criteri che è quello che già fanno le liste quello che fa tre shield eccetera ma non può entrare nel merito della comunicazione per entrare lì dentro bisognerebbe impostare tutto un sistema di certificati distribuiti sulla rete che ci riportano a vedere tutto quello che passa dentro e a quel punto ci sarebbe sicuramente la possibilità di filtrare tipi di richieste tipi di autenticazioni i meccanismi eccetera quindi non ci sarebbe neanche bisogno di far tool si tratterebbe di fare setup però bisogna apporsi il problema cioè la mia volontà di oggi con Alessio era quella di scuotervi io sono convinto che voi sappiate già che se c'è un'applicazione vulnerabile il firewall poco può fare per proteggerla può magari proteggere dalle conseguenze della compromissione ma non può proteggere l'applicazione se il servizio deve essere erogato e il servizio è vulnerabile noi stiamo erogando una vulnerabilità il firewall poco ci può fare diciamo che l'obiettivo di oggi è dare consapevolezza di queste cose di come vengono fatte di cosa è possibile fare con queste cose e quindi eventualmente anche come è possibile evitarle allora Alessandro Febo dice se le slide verranno inviate alla fine si le legheremo ve le manderemo anche nella mail magari anche con la correzione perché vedo che qua è successo qualcosa sul vi mandiamo vi mandiamo le cose così voi potete divertire a casa mi raccomando non fatelo no fatelo ma su sistemi che controllate non su sistemi altrui perché può essere un problema diciamo come dicono nelle trasmissioni non fatelo a casa ok quindi vi manderemo quindi potete guardare anche tutti i comandi che ha dato che ha dato che ha dato Nick e Matteo la registrazione sarà resa disponibile sì come ve lo dicevo all'inizio registratevi sul nostro canale Telegram Cervo Circhi Netesis e mandiamo il video direttamente praticamente lunedì quindi a chi si è registrato gli mandiamo un po' appunto quindi registratevi pure di sopra a quando un penetration test di NetSecurity questa domanda di Mirko potrebbe essere ma allora anche lì il VA sui prodotti lo facciamo stiamo mettendo in piedi un meccanismo proprio per migliorare costantemente il prodotto anche rispetto all'invecchiamento delle librerie che diventi strutturato in realtà la considerazione che verrà fuori anche così andiamo anche verso un punto che non stiamo toccando che è il corso di il prossimo corso Cyber360 spesso parte dei problemi siamo noi che li creiamo andando incontro alle richieste degli utenti perché gli utenti ci chiedono fammi passare l'RDP per quello che deve andare lì e se quello non ha l'IPI statico se quello non ha cose e anche noi gli spostiamo la porta cerchiamo di rimediarla in realtà stiamo aprendo una falla e quella falla è quella che poi può essere utilizzata magari non oggi tra due mesi tre mesi sei mesi e diventa un problema di sicurezza quindi i penetration test di NetSecurity andrebbero fatti di volta in volta di installazione installazione anche perché qual è la politica che utilizzate nella gestione delle password di NetSecurity con la gestione degli accessi di NetSecurity utilizzate la stessa password che quella della vostra workstation locale che può viaggiare attraverso il SID e che è invertibile Ale questa è tutta tua non hai il microfono chiuso hai ragione hai ragione hai ragione ho fatto un corso di certificazione chiamato Cyber360 se sì quando uscirà che cosa parlerà l'ho fatto vedere all'inizio corso sulla Cybersecurity tenuto la NIC 8 marzo a Pesaro e ci sono le c'è tutto andate su se non avete ricevuto la mail cercatela perché l'abbiamo mandata qualche giorno fa comunque andate su nostro sito corsi di certificazione c'è il che potete tranquillamente registrare abbiamo ancora qualche posto quindi fatelo fatelo velocemente se volete fare chiaramente NIC parlare di questi temi è tanto 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 di più perché avrà una giornata intera il corso sì il corso è disponibile soltanto per i nostri per i partner per poterlo fare quindi venite 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 pure registratevi ed è appunto gratuito per i partner per i partner Neticis può aiutarci qualche anticipazione sul corso NIC di dirci qualche cosa non credo che ci sarà anzi non ci sarà il webinar legato al corso perché di fatto è un laboratorio rispetto alle certificazioni su Cloud Log Manager e WA il taglio sarà un pochino teorico ma poco 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 giusto per parlare tutti la stessa lingua e quindi alcuni elementi che io spero siano scontati ma siccome i colleghi che hanno più esperienza di me mi ripetono che scontato non dobbiamo dare niente quindi una parte veloce introduttiva su elementi di security e poi esercizi esercizi non arriveremo a questo livello di 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 ah scusate sì potevo togliere non arriveremo a questo livello di 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 complessità perché è un livello un po' avanzato ma eh tanti esercizi perché l'obiettivo è quello di fare in modo che chi viene al corso riesca a gestire un WA sia in termini di preparazione che in termini di eh comprensione quando se ne trova uno anche a prescindere da quelli di netesis perché cominciano arrivare non so se abbiamo lanciato la moda o se eh siamo stati eh fortunatamente coinvolti ma cominciano arrivare WA nei quali i partner devono confrontarsi e riusciamo a dare una marcia in più perché chi sa già di che cosa si parla qual è l'obiettivo dove si va a parare eccetera riesce a gestire eh parte dei problemi lo ridico oggi lo ridirò al corso cominciare a parlare di security è come fare la differenza fra funzione ed è sicuro perché io se ho una casa con degli infissi che mi tengono caldo e freddo nelle giuste stagioni non è detto che gli stessi siano a prova di intrusione quindi di sfondamento eccetera e quando io al mio costruttore dico che ho bisogno di un infisso che sia blindato sicuro eccetera ma anche efficace è chiaro che avrò un prodotto diverso da quello passatemi il termine di base o quello che funziona e qui è lo stesso discorso bisogna cominciare a far capire ai clienti questo discorso perché si aspettano che sia tutto sempre compreso gratuito e integrato e invece spesso e volentieri vanno fatte un po' come la sartorialità vanno prese delle misure vanno fatte delle considerazioni va scelta la modalità più efficace rispetto allo specifico cliente perché qualcuno potrebbe volere two factor autenticator qualcuno no continuo a ripetere lo ripeterò quasi fino allo sfinimento un pizzaiolo e un medico potrebbero avere la stessa infrastruttura IT con l'e-commerce con la possibilità di erogare servizi online ma i dati che ci sono sotto possono richiedere accortezze e accountability quindi capacità di saper dimostrare quello che si è messo in gioco molto diverso e quindi noi che cominciamo a essere le loro interfacce tecnologiche dobbiamo essere in grado anche di guidarli nelle giuste scelte se non lo facciamo rischiamo che lo faccia qualcun altro direi che possiamo concludere dato che ho ridurato anche abbastanza questo webinar e anche le scale che ho fatto e mi dispiace per le attese che vi ho fatto fare molto esercizio l'ottanta per cento della giornata saranno esercizi non esclusivamente tecnici ma esercizi per capire certi concetti da spiegare ai clienti e quindi anche il concetto di oggi cioè capire che Windows si basa sugli hash gli hash sono vulnerabili valutiamo se possiamo fare qualcosa per il robustire quelli e altre e altre best practice piuttosto che approcci eccetera ok speriamo di avervi dato un po' intanto qualche pillola per chi vuole ci vediamo a Pesaro l'otto marzo iscrivetevi e partecipate al laboratorio di una giornata con Nicola grazie a tutti grazie Nick grazie a tutti quelli che che si sono che si stanno salutando intanto vi auguro un buon weekend ci vediamo ai laboratori o ci vediamo al prossimo webinar tra due settimane ci vediamo in giro per l'Italia per il nostro show ciao a tutti ciao